Padre Jacamel è stato sgozzato nella croce proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. Omo buono, mite, di fratellanza, che sempre cercava di fare la pace, è stato assassinato come se fosse un criminale. Un martire, i martiri sono beati, dobbiamo pregarlo che ci dia la mitezza, la fratellanza, la pace. Anche il coraggio di dire la verità, uccidere in nome di Dio è satanico.